Torre Pinta è un villaggio rupestre carico di suggestione e mistero. Il sito rupestre si trova nella Valle delle Memorie, un luogo caratterizzato dalla presenza di numerose grotte, alcune naturali e di modeste dimensioni, la maggior parte scavate dall'uomo. In questo luogo nel 1500 venne costruita l'omonima masseria fortificata Torre Pinta. L'antico sito rupestre di Torre Pinta sarebbe stato utilizzato in passato come luogo di sepolture e poi come colombaia per l'approvvigionamento delle carni. Quello di Torre Pinta è uno scenario paesaggistico suggestivo che riporta ai tempi arcaici, quando le terre otrantine erano destinate alla coltivazione dell'uva e al pascolo. Si respira ancora oggi il profumo della terra, rinfrescato dalla brezza pungente di Levante. Grazie. Grazie.